Amici sportivi direte ora e fuori era un cordiale e buon pomeriggio da Alessandro Bastianelli qui a Via Giuseppe Candiani è stato Roberto Iolati sta per andare in onda il big match ed anche l'anticipo della quindicesima giornata del campionato degli Avelit in campo, nuova torte e teste ed ostia maria va proprio adesso Sargolini con il destro, parada di Paglici, la valla ancora là, provvidenziale intervento di La Penna parte ora Michettoni, pochi, con il destro sul secondo palo, la palla, il colpo di testa, arriva però un giocatore della torte e teste che la butta in rete e la torte e teste passa in vantaggio, 1-0 qui al Roberto Ielasi ancora calcio d'angolo affidato al numero 9 Ferrari, va con il destro, palla tagliata in aria, svetta con Tucci, con il numero 6 Muzzi il tiro è Paglici, partito per un attimo di anticipo, da terra Melucci, Ferrari di testa, pesce, con il sinistro ci ha provato adesso il numero 8 Paternoster, una bella conclusione un po' troppo centrale però per far male a un Paglici, ben concentrato e anche ben posizionato Ferrari prova a suggerire in profondità per il numero 10 derrete Spanò, firma il pareggio per l'Ostia Mare Paternoster col Mancino, la palla tagliata al centro, Paglici non blocca il caricore lancia in aria, Paglici chiama il pallone ma c'è la penna che spazza fuori aria ancora con il numero 7 Sergolini ci ha provato da fuori col Mancino ancora Paternoster con il Mancino, perete in aria Paternoster con il Mancino, la palla avrà nella traversa, arriva Ferrari ed è 2 a 1 per l'Ostia Mare, grandissimo il tap in di Ferrari ma che lavoro Matteo Paternoster sulla sinistra, tutto suo il merito di questo 2 a 1 per l'Ostia Mare ed è ora 2 a 1 per l'Ostia Mare, torte e test in avanti con Bertarelli tre carichi però fa buona guardia e si guadagna un calcio di punizione altro cartellino forse in arrivo per la nuova torte e test Michettoni l'ha combinata davvero grossa Michettoni e viene ora espulso per qualche parola di troppo nel rare invaggio finale della nuova torte e test è verso il pareggio parte ora al podio con il destro la palla tagliata in aria il colpo di testa di Lupi grandissima parata di Micucci evita pericoli ben peggiori mentre qui adesso Pinto è costretto a un fallaccio e forse si becca al secondo cartellino giallo cartellino rosso anche per Pinto torte e test in nove uomini ma fischia adesso la fine Ostia Mare batte nuova torte e test per 2 a 1 salgono a 31 i ragazzi di Patanella in classifica primo stop in campionato invece per la nuova torte e test che esce battuta da una gara che ci ha davvero regalato grandi emozioni grandi gol, grandi giocate ma anche tanto nervotismo ricordo anche per la nuova torte e test per la nuova torte e testa di per la nuova torte e testa di